Quella che ho appena visto è la pinna di una spigola enorme che sta cacciando tra le alghe. Provo allora a lanciare e recuperare lentamente. Mentre recupero vedo di nuovo la pinna, allora mi fermo e aspetto. Ma la spigola rifiuta l'esca. Non è un fenomeno strano, molto spesso quando i pesci stanno cacciando qualcosa di diverso vedono la nostra esca come un intruso e la scacciano via.